finalmente ce l'ho fatta finalmente ce l'ho fatta superare sto benedetto esame e se volete sapere di cosa sto parlando ebbene ve lo dico subito perché in data 22 luglio quindi ieri sono andato in quel di milano alla motorizzazione per sostenere l'esame di teoria della patente non ve l'ho detto subito perché nel senso non ve l'ho detto durante questi ultimi mesi perché volevo che fosse una sorpresa ebbene se mi vedete felice secondo voi sono passato no ma certo che ce l'ho fatta sono passato sono idoneo e questo ovviamente è un traguardo importante adesso ferie ferie relax fino a settembre perché ad agosto non ci sono le guide meno secondo quanto mi ha detto il mio istruttore quindi assolutamente a settembre devo iniziare a fare le guide anche perché a metà ottobre mi scade l'iscrizione quindi io entro a metà ottobre devo anche fare l'esame di pratica che speriamo di passare al primo tentativo perché almeno così ho la patente e finalmente posso andare dove voglio perché ovviamente se siete neopatentati attenzione avete tutte le limitazioni ossia i limiti di velocità diversi in autostrada in strada extra barna principale non dovete avere il tasso alcolemico pari a zero io non bevo di norma quindi non a posto siete neopatentati per tre anni dal conseguimento della patente poi dal quarto anno siete patentati normali e soprattutto non potete guidare certi tipi di veicoli per esempio un'autovettura una macchina che ha una potenza superiore 70 kilowatt per esempio la macchina di mia mamma a 78 kilowatt quindi non potrei guidarla però per il primo anno dal conseguimento della patente poi dal secondo potrà in teoria guidarla e poi dal secondo bisogna tenere fede solo al rapporto potenza peso che è di 55 kilowatt per tonnellata questo però è un indicatore di cui bisogna tenere conto dal secondo anno dal primo il primo conta solo la potenza invece poi dal secondo si tiene conto potenza peso ma la macchina di mia mamma in teoria non potrei guidarla nemmeno adesso perché sono col foglio rosa il foglio rosa probabilmente di esercitarmi alla guida l'importante avere di fianco nel passeggero una persona che è patentata da tot anni tipo dieci anni ecco per esempio mia mamma potrei tenerla come passeggera visto che lei ha fatto la patente più di 30 anni fa quindi ci sta però devo dire che col foglio rosa sei anche un po limitato perché non puoi ufficialmente guidare come una persona patentata ecco sei tipo sulla strada per diventare neopatentato sono contentissimo di aver raggiunto questo traguardo l'ho detto praticamente a tutti quelli che conosco ovviamente la prima persona a sapere è stata mia mamma per poco mia mamma non sveniva al telefono dalla contentezza pensate un po che quando mi ha accompagnato in stazione sono entrato in treno è andato in macchina per fare delle cose importanti di lavoro c'aveva già l'ansia per me immaginatevi io che l'ansia avevo ieri perché c'avevo la tachicardia quando si tratta di ste cose io mi agito molto spesso e devo cercare di tranquillizzarmi per fortuna che però poi in aula sono rimasto rimasto abbastanza tranquillo ero concentratissimo alla fine quando mi hanno detto il risponso mi hanno chiamato ovviamente per ordine alfabetico e hanno detto compagnoni sono andato a questa scrivania dove c'era l'esaminatore metto bravo sei idoneo non ci posso credere davvero sì guarda ti ho messo l'ai sulla pratica vuol dire che sei passato ovviamente io non sapevo se piangere o urlare dalla contentezza sono andati in sala d'attesa ho subito acceso il telefono perché prima di fare l'esame te lo fanno spegnere ho acceso il telefono ho chiamato mia mamma mi ha risposto con una voce della serie madonna che ansia alla fine ho detto mamma sono passato e mia mamma mi fa bravo 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 per poco non si metteva a piangere beh io in realtà stavo per piangere anch'io in realtà però mi sono trattenuto perché vedo ragazzi questo è un traguardo importante perché io ho 27 anni in teoria la patente la potevo fare anche alle superiori ma o studiavo la patente o facevo le verifiche e le interrogazioni non potevo fare due cose insieme però finalmente adesso che ho la testa un pochettino più libera da tante tante cose magari negative mi sono iscritto appunto questa volta a una tua scuola seria perché la tua scuola alla quale mi riscritto due anni fa e con la quale ho fatto la teoria non andava bene poi all'epoca avevo anche la testa da tutt'altra parte non ero sereno come si dice diciamo in gergo e quindi adesso che sono un pochino più tranquillo ho fatto la teoria sono passato ci siamo tolti dalle palle sto scoglio e adesso pensiamo adesso a rilassarci ad andare in ferie ma soprattutto al futuro perché ad agosto niente guide perché avranno anche loro le ferie da fare hanno detto che a settembre se ne riparla io intanto però già settimana prossima se riesco non dico subito lunedì ma tra lunedì e mercoledì al massimo passo a ritirare il foglio rosa vado io personalmente a ritirarlo così almeno inizio un po' a prendermi le mie responsabilità andrò ovviamente a prendere il pullman qua cesano vado a seveso stazione dalla stazione autoscuola sono cinque minuti a piedi quindi non è un problema per me andare da solo prendo il foglio rosa e scappo a casa tutto qua io sono contentissimo ragazzi sono contentissimo magari in questo momento non si vede però sono davvero euforico di aver preso finalmente questa sfida e di averla superata davvero ancora faccio fatica a crederci poi vabbè l'ho detto alla mia migliore amica il mio miglior amico ad altri miei amici che mi conoscono l'ho detto anche a mio cugino che non vedeva l'ora di sapere che cosa era successo perché lui appunto vale superiori e come desiderio lui vorrebbe che io vada a prenderlo a scuola ovviamente vediamo di prendere la pratica così almeno poi eventualmente se vuole che vado a prenderlo io vado io intanto ci stiamo attrezzando per trovare una macchinina il problema è che io ovviamente vabbè allora io sapete che la macchina deve essere commisurata in base alle vostre esigenze e soprattutto dovete regolare specchietti sedili poggiatesta insomma la macchina deve essere funzionale alla vostra persona a me piacerebbe avere una bella macchina ovviamente non mi importa di che marca sia l'importante che funzioni e che si adatta a me non a caso io ovviamente ho chiesto di fare la patente b perché a parte il fatto che la macchina è il mezzo di trasporto più comune ripeto io non volevo nemmeno fare a prescindere la patente della moto perché per me la moto è un sapete che le moto non sono moto veicoli ma sono moto cicli ok chiamate anche volgarmente moto cicli il problema però è che la moto non è come la macchina c'è la macchina per altro puoi appoggiarti puoi guidare non puoi guidare invece la moto ok ai manubri ma non ti puoi appoggiare cioè se sei seduto col culo sul sedile sulla sella anzi mentre in macchina puoi anche appoggiare la schiena e poi soprattutto una feature che nella mia futura macchina non deve mancare è la porta usb per la musica perché a me piace tantissimo ascoltare la musica quando sono in macchina anche con mia mamma per esempio quindi assolutamente della macchina deve aver la radio magari non accenderò proprio la radio per sentimi le stazioni radio ma l'accendo per mettere dentro la chiavetta oddio peraltro ieri sera sono andato a festeggiare con mia mamma siamo andati a mangiare fuori e ancora dovevo sbollire tutta l'adrenalina che avevo per la contentezza che ho provato quando mi hanno detto che eri idoneo poi ho condiviso la foto che l'istruttore ha fatto di me e degli altre persone che hanno passato l'esame su whatsapp ovviamente l'ho pubblicata come è stato me l'hanno vista in tanti quindi sono contento che poi la gente mi aveva fatto anche i complimenti anche altri miei parenti mi hanno fatto i complimenti quindi non potrei essere più contento di questo anche su twitter l'ho condiviso il momento non la foto condiviso solo un post con tanto di gif aveva presente l'evanato di caprio in the world full st quando batte le mani così ecco quella gif li ho messo la serie complimenti a me medesimo per aver superato l'esame e davvero ragazzi sono contentissimo adesso finalmente il 50 per cento della patente è completata altro 50 e guide più pratica non vedevo l'ora di dirvelo però mi sarebbe molto dispiaciuto dirvi subito a marzo che mi ero iscritto per far la patente e tenervi aggiornati su questa situazione volevo aspettare il momento dell'esame per dirvelo ebbene ovviamente il video non l'avrei fatto se fosse stato bocciato ma vaffanculo a tutti finalmente ce l'ho fatta e anche se voi potreste pensare è forse un po tardi vabbè 27 anni cioè ci sono persone che la pigliano pure a 30 35 cioè in teoria non so se ci sia un limite d'età per prenderla non ne sono a conoscenza però in teoria la patente si può iniziare a prendere anche da 18 anni io però a 18 anni ero ancora nel mezzo delle superiori o studiavo o studiavo scuola o facevo la patente le cose insieme non posso farle io perché io preferisco fare una cosa per volta ripeto se avessi avuto la possibilità magari anche economica l'avrei fatta anche durante le superiori però tenendo conto del fatto che tra 18 19 anni scatta la maturità o facevo quella o facevo la patente adesso finalmente la maturità ovviamente l'ho fatta anni fa adesso ho fatto la teoria della patente quindi bene adesso si a cavallo e si pensa al futuro ripeto ad agosto non si fa un cazzo si sta tranquilli si rilassa si pensa alle ferie e ovviamente non vi dico ancora quando ho le ferie perché è presto però se volete ve lo dico ma si fanculo perché devo tenermi segreti io ho detto della patente adesso perché non volevo farvi preoccupare ho passato l'esame adesso lo sapete vi dico anche quando sono in ferie così almeno sapete anche i giorni in cui probabilmente non potrò fare video ma forse potrei fare come ho fatto a sirmione l'anno scorso che mi porto dietro le attrezzature e giro qualcosa perché lì in villaggio in grecia vado in grecia quest'anno c'è il wifi veloce quindi in teoria potrei anche provare a pubblicarlo direttamente dall'hotel hotel dal villaggio vado a rodi e peraltro questo sarà il mio primo viaggio all'estero dal 2019 perché 2020 21 sono andato a sirmione il problema è che sapete che c'è stato il covid quindi non si poteva tanto viaggiare c'erano tutte le varie normative ecco adesso in teoria si è un pochettino sistemato tutto e niente quindi quest'anno si va all'estero anche perché ha espresso il desiderio mia mamma di andare all'estero quindi io vado con lei e ci facciamo una bella settimana in grecia così almeno andiamo un po al mare siamo un po in piscina ho visto anche tutti i vari servizi che offre questo villaggio devo dire che è molto bello anche da vedere dalle foto perché è stato rinnovato quindi non mi ricordo adesso come si chiama dovrei avere il foglio da qualche parte vediamo se riesco a trovarlo ragazzi vediamo se riesco a trovarlo ma mi sa che c'è la mia mamma vediamo se riesco a cliccare il foglio ma mi sa che c'è la mia mamma no mi sa che non ce l'ho non è qua no non è qui il foglio delle vacanze ragazzi ma fa niente comunque vado a rodi questo ve lo posso confermare e ragazzi dal 19 al 26 sono via faccio una settimana speriamo che sia una settimana che passi molto lentamente perché più ci godiamo le ferie e meglio stiamo no bene ragazzi questo è quello che vi dovevo dire il video è anche durato troppo quindi adesso per il momento ci salutiamo qui vi ricordo come sempre di continuare iscrivervi al canale youtube per attivare la campanellina e di attivare anche le notifiche appunto per non perdere i prossimi video seguitemi su tutti gli altri link che trovate in descrizione e poi mi raccomando continuate a supportarmi perché voglio continuare appunto a fare anche i video di youtube adesso che sono libero ovviamente dalla patente almeno momentaneamente parlando perché dovrò pensare a fare le guide e fare la pratica ma in teoria non c'è tanto da studiare per la pratica ti chiederanno comunque qualche domandina ma per il momento il manuale che tra un po porta il mio nome scritto sopra perché l'ho usato tantissimo ovviamente ho usato tanto anche l'applicazione per fare i quiz però adesso finalmente sono libero da questi impedimenti perché comunque per me è stato anche un impedimento perché ogni giorno da quando mi sono iscritto ho studiato quindi praticamente volevo raggiungere questo traguardo e ce l'ho fatta solamente studiando impegnandomi e concentrandomi soprattutto e quindi posso tornare magari a fare video anche un po più frequentemente ho ancora delle recensioni vecchie che ho registrato qualche giorno fa da ancora da pubblicare questo video e poi se riesco ne faccio altri di video ok benissimo ragazzi un grosso abbraccio ringrazio ovviamente tutti quelli che mi conoscono per il supporto e adesso finalmente posso dirlo sono in ferie no scherzo però comunque dai adesso posso finalmente concentrarmi un po su youtube magari anche sui giochi e fare appunto un po le mie attività perché per gli ultimi mesi ho dovuto ridurre il tempo delle mie attività anche se comunque pubblicato diversi video però il tempo di studiare ce l'avevo sempre studiavo praticamente ogni giorno quindi se avevo voglia di rilassarmi un bel video ci stava oppure giocavo tutto qua ragazzi vi saluto vi do appuntamento alla prossima ciao